L'Europa ha formato la nostra cultura e anche i nostri parametri di valutazione, quindi era importante che prendesse come ha avuto in passato un ruolo di avanguardia nel pensiero politico mondiale. Non è più così, l'Europa non ha più un ruolo di avanguardia come quello che ha avuto in fondo dal 300 all'inizio o alla metà del secolo scorso. Ad oggi l'unica politica dei governi è compiacere i mercati finanziari, sarebbero possibili degli approcci diversi, quelli che proponiamo qui dicendo nel modo più semplice al centro dovrebbe esserci il benessere delle persone, il lavoro, non lo spread. La Banca Centrale Europea che fissa le politiche di austerità per tutta Europa ha come unico obiettivo contenere l'inflazione al 2%. Perché non ci sono degli obiettivi di lotta alla disoccupazione? Siamo in una situazione in cui il Parlamento italiano ripete il mantra «è l'Europa che ce lo chiede» e l'Europa è unicamente l'Europa dei mercati, l'Europa finanziaria, non l'Europa sociale, l'Europa dei diritti. Il nostro paio è a la merce della mercati finanziaria. Il nostro paio è la valuta dei mercati finanziari, il classement dei mercati finanziari, dei diversi Stati. Un Stati è vero, quindi ha un tatt d'intrino basso, e un Stati non è vero. Chi lo dice, sono i mercati finanziari, non sono i popoli, non sono decidi democraticamente. Quindi bisogna essere di scoprire di questa valuta e di questa impresa dei mercati finanziari. La prima cosa è di freino le funzionamento dei mercati finanziari. D'essere il più possibile che le domande di finanziamento non sono non sui mercati finanziari, ma passano per altri cani. L'idea di permettere che gli Stati s'adressano a dei banki centrali che sono sotto controllo democratico per finanziare, non ne va più sui mercati finanziari. Pareil per le persone, il faut che le persone s'adressano a dei sistemi bancari più democratici, più socialmente controlli, di maniera a che le persone non sono obbligate di tornare a dei mercati finanziari per trovare queste risorse, sapendo che quando le persone passano a dei mercati finanziari, le pressioni sui lavoro sono grossi, e noi sappiamo che c'è l'obbligazione di versare dei dividendi, di fare pressione sui salari, quando passano a dei mercati finanziari. Il terzo punto riguarda la politica di spesa e l'esigenza di un'immediata fine delle politiche di austerità. Il terzo punto riguarda la politica finanziari, della politica finanziari. Il terzo punto riguarda la politica finanziari pubblici ha dei effetti sull'economia, perché queste prestazioni servono a consumare, questi servizi pubblici servono a migliorare, eccetera. Quindi, se si basse queste finanziari pubblici, non ha d'effetto solo sull'Etat. C'è pensare che non c'è una relazione, è vero. Ci sono effetti sull'economia, quindi producono meno di ricchezza e quindi potrebbero meno rimborsare. L'IMU è solo l'ultimo esempio molto evidente di questa regressività delle tasse. La Costituzione italiana prevede che le tasse siano progressive. Chi ha di più deve versare di più. Possiamo togliere l'IMU sulla prima casa, ma per chi ha decine di case, ville al mare, l'IMU sarebbe stata un'imposta progressiva. L'eliminiamo e o si va a aumentare l'IVA, che è l'imposta più regressiva, perché tutti la pagano allo stesso modo, quindi i più poveri sui consumi in proporzione la pagano di più, o addirittura veniamo a sapere che per la copertura dell'IMU abbiamo tagliato i fondi per l'occupazione. Quindi andiamo nella direzione di colpire ancora una volta i lavoratori, le classi più povere della società, per togliere un'imposta potenzialmente molto progressiva su chi ha molte case, molte ville, su chi ha un patrimonio molto alto in questo paese. Grazie. 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 Grazie.